Buongiorno a tutti, in questo video vi propongo un approfondimento sull'integrale della funzione potenza. Quindi l'integrale di x alla t, dove t è un qualsiasi parametro reale. Allora, sappiamo che le regole di integrazione di questa funzione elementare in realtà sono due. C'è la prima, che vale per tutti i valori di t, tranne per t che vale meno 1, ed è x alla t più 1 fratto t più 1 più una costante arbitraria c. L'unico caso, l'unica eccezione è quando t è uguale a meno 1, sappiamo che l'integrale di x alla meno 1, cioè di 1 su x, è uguale all'ogaritmo naturale del valore assoluto di x più c. Allora, la riflessione che vi propongo in questo video è come mai queste due primitive, questi due insiemi di primitive, sono così diverse tra di loro. Come mai c'è solo questo caso isolato particolare, appunto, della funzione x alla t. Allora, innanzitutto, per affrontare questa questione, vi propongo di restringere il dominio soltanto ai valori di x positivi, strettamente positivi. Questo ha il doppio vantaggio di, intanto, semplificare la seconda regola, quindi possiamo scrivere semplicemente l'ogaritmo naturale di x più c, senza il valore assoluto, e poi il dominio dei valori strettamente positivi è l'unico dominio che è comune a tutte le funzioni del tipo x alla t per qualsiasi esponente reale. Bene, una volta fatta questa semplificazione, possiamo utilizzare uno strumento, come ad esempio GeoGebra, per poter visualizzare graficamente cosa accade al variare di t. Allora, qui abbiamo intanto il grafico della funzione logaritmo naturale di x, qui tratteggiato in nero, e poi in rosso abbiamo la funzione x alla t più 1 fratto t più 1, cioè la primitiva nel caso in cui c sia uguale a 0, e in questo caso il valore di t è uguale a 2. Posso variare il valore di t e al variare il valore di t, chiaramente, il grafico della funzione cambia. Ebbene, diciamo, percorrendo tutti i valori di t da 2 a meno 2, si vede che questi grafici cambiano con una certa continuità, tranne il fatto che a un certo punto cambiano quadrante, però ecco, non si avvicinano assolutamente al grafico della funzione logaritmo naturale di x. In particolare, non si avvicinano quando t è vicina, quindi è un intorno di meno 1. E allora questo, chiaramente, è abbastanza, diciamo, frustrante, perché ci si aspetterebbe invece un avvicinamento. In realtà è possibile creare proprio questo tipo di situazioni. In che modo? Beh, scrivendo la regola di integrazione, nel caso t diverso da meno 1, cioè quella più generale, in un modo leggermente diverso, cioè aggiungendo una costante meno 1. Ecco, aggiungendo questa costante meno 1, anche se la aggiungiamo qui al numeratore, sostanzialmente è come se noi aggiungessimo meno 1 fratto t più 1, che comunque rispetto a x è una costante. Quindi possiamo subito verificare che derivando questa funzione, comunque si ottiene x alla t, quindi effettivamente è una regola di integrazione corretta per definizione di integrale. Cosa succede allora? Se noi esprimiamo, quindi, questo nuovo modo di esprimere le due regole, possiamo andare a fare un'altra verifica grafica, sempre con lo stesso strumento, e capire se cambia qualcosa. Allora, cambiamo quindi la definizione, aggiungiamo questa costante meno 1 e facciamo la stessa operazione di variare l'esponente t. Beh, in questo caso, come si vede, avvicinandosi a meno 1, effettivamente le funzioni si avvicinano alla funzione logaritmo naturale di x, sia da destra che da sinistra, ovviamente tranne per il valore proprio meno 1, per cui chiaramente questa espressione continua a non essere definita. Bene, allora questa che chiaramente non costituisce una dimostrazione, ma soltanto una suggestione visiva, può essere resa rigorosa sostanzialmente cambiando la prospettiva su questa nuova espressione che abbiamo definito. Cioè, possiamo vederla come funzione non più di x, ma di t, e capire cosa accade quando ne calcoliamo il limite per t che tende a meno 1. Allora, calcoliamo questo limite, possiamo lasciare fuori chiaramente la costante c, che quindi verrà semplicemente sommata al limite. Se andiamo a sostituire meno 1, otteniamo x alla 0, che è 1 meno 1, e al denominatore meno 1 più 1, che di nuovo è 0. Quindi otteniamo una forma indeterminata 0 su 0. Beh, sappiamo che nel trattare una forma indeterminata 0 su 0, una possibilità è usare il teorema dell'hôpital o dell'hôspital, cioè di calcolare la derivata del numeratore e del denominatore. Allora, la derivata del denominatore è 1, ovviamente, attenzione, quella del numeratore, questa volta, visto che stiamo calcolando la derivata rispetto a t, non è più una funzione polinomiale, cioè potenza, ma è una funzione esponenziale. Quindi la derivata di x alla t più 1 è x alla t più 1 per il logaritmo naturale di x. Cioè abbiamo applicato la regola di derivazione dell'esponenziale. Bene, a questo punto sostituiamo il valore meno 1 per calcolare questo limite. Vediamo che la forma di indeterminazione è stata risolta, quindi si ottiene x alla 0 per logaritmo naturale di x più c, ma x alla 0 è appunto uguale a 1, per cui otteniamo proprio quello che ci aspettavamo. Cioè che il valore di questo limite, indipendentemente da x, è uguale al logaritmo naturale di x più c. Quindi la conclusione è che per ogni x strettamente maggiore di 0, l'espressione x alla t più 1 meno 1 fratto t più 1 più c tende a tendere di t a meno 1 al logaritmo naturale di x più c. Bene, ho concluso questo video, spero vi sia piaciuto. Vi lascio come spesso accade con una citazione dal grande matematico Cauchy, che si è occupato in particolare di analisi matematica, che appunto dice che sì, senza dubbio signori, la ricerca della verità deve essere il fine ultimo di ogni scienza. Grazie, alla prossima.